La questione sanità eblea è il paventato depotenziamento degli ospedali riuniti, modi, cascicli, poi almeno sulla carta spazzato via dal ministro Lorenzin e dal parlamentare Minardo, con l'elevazione a Spoca, mosso oltre alle istituzioni anche la reazione dal basso, dai cittadini con la nascita di comitati e la reazione delle rappresentanze sindacali. La CGL interviene infatti con un documento ufficiale per capire concretamente, si legge nella nota del sindacato, se il pericolo del declassamento del maggiore sia davvero scampato. Il sindacato prende posizione e rileva che è una significativa frammentazione dell'offerta ospedaliera ed è ad alto rischio di una disarticolazione dei rischi sanitari, ospedalieri e territoriali. La CGL quindi per la classificazione a Spoc degli ospedali riuniti di modi, cascicli, ma rilevela anche che rimangono molte alte criticità nella sanità eblea. Sulla stessa linea anche il sindacato Will Ragusa, presente all'incontro con il segretario provinciale Giorgio Bandiera. Noi chiediamo intanto il rispetto del territorio, io credo che in questa occasione il territorio proprio non è stato rispettato. Credo che l'ospedale maggiore di Modica, come dirà, ha le potenzialità per restare di primo livello. Quindi non riusciamo a capire la politica regionale che mette in discussione alcune cose importanti, per esempio gli ospedali. Noi crediamo che stamattina sia necessario, sia doveroso fare il punto della situazione. Ho sentito e ascoltato molti interventi, chiaramente vanno nella stessa direzione. È necessario da parte nostra, da parte sindacale, che ci sia un movimento di massa proprio per difendere ciò che abbiamo. Io credo che Ragusa sia stata penalizzata in tutti i sensi, noi abbiamo perso un po' tutto, siamo commissariati un po' dappertutto. Io credo che Modica non merita questo, quindi oggi è un'iniziativa importante. Spero che non finisca oggi. Arrivano risultati, devo dire, positivi, ma solo per sentito dire, dal Ministro della Salute. Io credo che questo, come dire, possa essere un auspicio, perché l'ospedale di Modica resta il presidio assoluto del territorio, non solo modicano, ma del presidio del comprensorio stesso. La difesa della sanità parte anche dall'agente comune, presenti infatti all'incontro di ieri molti cittadini interessati al futuro della propria sanità e della propria salute. La richiesta di tutti o unanime, così come sottolineato anche dalla CGL, si chiede all'assessore regionale Baldo Gucciardi di modificare nella direzione richiesta la rete di emergenza urgenza della nostra provincia. Grazie a tutti.